Paolo, facciamo un po' il bilancio del 2018, soprattutto per quello che riguarda gli appuntamenti culturali che hai voluto in questa tua libreria. Invasioni a tutto spiano? Sì, invasioni, definiamole invasioni perché non solo libreria con presentazioni di libri con grandi autori, curato con questa rassegna denominata Autori in Comuni, tanti giovani e tante promesse della letteratura non solo calabrese ma anche italiana e poi le invasioni che abbiamo fatto in giro per Crotone. Mi piace, come spesso e volentieri qualcuno ha sottolineato, andare a invadere i luoghi. Quest'anno abbiamo fatto della musica dappertutto, mi piace ricordare questi due interventi fatti al Mare Sport con tantissima gente portata sul mare, quello dello Yachting Club dove c'erano forse mille persone, abbiamo rispolverato e rifatto sotto le stelle del jazz e abbiamo fatto tornare a Crotone verso su jazz che è una piccola rassegna che mi sono inventato tempo addietro. Bilancio positivo, io sono felice, spero che per il 2019 mi rimanga sempre questo sentimento che è quello di essere felice di fare le cose, essere contento e avere l'entusiasmo. Ho la mia età, però spero che rimanga sempre inalterato questo spirito della proposta, proposta che poi tutto sommato vedo che raccoglie tanti consensi. Ecco, tu parlavi della musica, poter realizzare qualcosa che riguarda la musica di un certo livello. Insomma, Crotone vuole crescere. Crotone vuole crescere anche se qualcuno, non mi piace vedere, faccio una piccola sottolineatura, non mi piace vedere chi si lamenta, cioè ci lamentiamo la città è quella che è, c'è te ha degrato, ma ognuno di noi dovrebbe svegliarsi e lamentare l'idea che io cosa posso fare, che posso lasciare a questa città nel mio piccolo, quotidianamente oppure periodicamente, dire io ti lascio un segno o ti lascio un seme, poi da questo seme può benissimo far crescere le idee, soprattutto le buone idee e le nuove generazioni. Io ormai ho la mia età, spero che questi seme siano portati avanti dai giovani, ma tutto sommato con della qualità, della qualità che Crotone merita, ha sempre meritato e poi non mi va soprattutto, senza nulla togliere alla programmazione dei nostri vicini di provincia. Crotone deve aspirare anche a un ruolo che li compete da tempo, che è quello della culla della media grecia, della culla della cultura e soprattutto dalla culla delle idee. Ogni tanto ho leco sui giornali, quelli locali, altrove, i nostri vicini di provincia organizzano le situazioni. Il Crotone deve smuoversi, innanzitutto mettendo da parte un bruttissimo concetto, che è quello della gelosia, dell'antipatia e dell'invidia soprattutto, e collaborare dove è possibile, fissando magari anche dei paletti su quello che uno vuole fare, ma il Crotone deve crescere mettendo da parte anche l'orgoglio personale, se no non ce n'è per nessuno.